In attesa della sfida di domani sera tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi, Lio e Temi e Ibrahim fanno parte di un curioso duello. Dopo tantissima attesa, il primo atto del quarto di finale tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi andrà in scena nella giornata di domani. A San Siro, infatti, i rossoneri ospiteranno il team capitolino nel match di andata di questo derby europeo. Quest'oggi, infatti, si sono tenute le classiche conferenze stampa di presentazione della sfida. Il primo a parlare tra di due tecnici è stato Stefano Pioli, l'Europa League è un obiettivo importante anche per loro. Loro stanno davvero bene, arrivano a questa sfida dalla vittoria nel derby contro la Lazio ed hanno perso solo contro l'Inter. Non è più la stessa squadra da quando se n'è andato Rossi Mourinho. Punto Mentre Daniele De Rossi, esattamente ai microfoni ufficiali di Sky Sport, ha presentato così la sfida con il Milan, stimo tantissimo Stefano Pioli, ha vinto uno scudetto giocando un calcio moderno. Tuttavia, al netto di queste dichiarazioni dei due allenatori, la vera sfida a sorpresa è tra Raffaello e Temi e Ibrahim. Milan-Roma, Raffaello e Temi e Ibrahim sono i due calciatori più di valore delle due squadre, ecco perché. Come riportato dal portale Transformarkt, infatti, questi sono i due giocatori di Milan e Roma con il valore del cartellino più alto, 90 milioni di euro Raffaello e 35 milioni di euro Temi e Ibrahim. Tra i due, ovviamente, quello che sicuramente scenderà in campo dal primo minuto è sicuramente il calciatore portoghese. Temi e Ibrahim, dopo il durissimo infortunio subito nell'ultima giornata del campionato dell'anno scorso contro lo Spezia, è tornato a disposizione di Daniele De Rossi proprio nella sfida di sabato scorso contro la Lazio di Igor Tudor. Il centravanti inglese, dunque, potrebbe rappresentare quell'arma a gara in corso che potrebbe spostare gli equilibri della sfida. Punto gli altri giocatori con i cartellini più altri, invece, sono Theo Hernandez per il Milan 65 milioni di euro, e Romelu Lukaku 30 milioni. Mentre il valore di Paolo Dybala, in maniera incredibile, è solo di 25 milioni di euro.